Dopo la notte di Paolo Pagolini, loro erano particolarmente scoporti per la notte di Pagolini e per i modi in cui era rotto e per i modi in cui poi dopo è stato trattato, non abbiamo costituito cambi che li derivano al suo solito, non lo paventure, ciò che aveva inserciato. In generale da me sempre mi credo gli ultimi, erano molto diversi e quindi di eros, di tutte le vie romma, per essere uno che non aveva tese, secondo alcuni, secondo me neanche aveva tantissimi, ma so che parliamo. E' una storia un po' complicata, è una storia un po' complicata. E' una storia un po' complicata, è una storia un po' complicata. la storia un po' complicata, è una storia un po' complicata, è una storia un po' complicata. è una storia un po' complicata, è una storia un po' dicoloroso. E' una storia sconfusionata, e' una storia sbagliata. Con la spiaggia, ai cagli del lento, se uscivono i termini e i piedi del fuoco, e' una notte un poco girata, e' una notte sbagliata. Notte diversa, per gente normale, notte gole, per gente speciale, cos'altro ti serve? E' una storia sconfusionata, e' una storia sbagliata, e' una storia sbagliata. E' una storia sbagliata, e' una storia sbagliata, e' una storia sbagliata. E' una storia sbagliata, e' una storia sbagliata, e' una storia sbagliata. Gioia diversa, per gente normale, gioia comune, per gente speciale, lo caldo di sempre, da questo diva, ora che il cielo al centro e a colpire, ora che il cielo ai nord e a colpire. E' il segno che c'è rimasto, non ripetersi quanto dispiace, non ti chiedere più come andare, tanto lo sai. E' la storia sbagliare, tanto lo sai, e' la storia sbagliare. E' la storia sbagliare, tanto lo sai. Andiamo d'informazione.